Il blitz di Monopoli aveva illuso, la realtà è ben diversa. Quando il Pescara è chiamato a fare la partita emergono difficoltà evidenti. Col Picerno zero tiro in porta, quarto K.O. Casalingo, terzo di fila, trend preoccupante. La perdita di autostima, cioè la vittoria di Monopoli ha prodotto questo effetto? Non scherziamo. E come infilarsi nel porto delle nebbie? La questione è molto più semplice o complessa, dipende dai punti di vista. Il Pescara sta giocando male ed è giusto rimarcarlo. Se viene meno l'intensità, se la squadra gioca sotto ritmo come è accaduto col Picerno e non solo, per vincere poi servono idee e soluzioni. Da questo punto di vista il Pescara di Colombo non eccelle in modo particolare. A maggior ragione con un centrocampo per due terzi muscolare, visto che Aloy non ha caratteristiche da play. Contro i Lucani zero conclusioni in porta, del resto se non tiri vincere diventa complicato. Al Pescara degli ultimi tempi sta accadendo questo, specie all'Adriatico, diventato terra di conquista. Le sconfitte casalinghe sono quattro, di cui tre consecutive. Prima i Biancazzurri facevano una buonissima fase difensiva e una discreta pressione. Ora però tutto questo latita, ma a mancare sono soprattutto le giocate offensive. L'involuzione è sostanzialmente di natura tecnica, semmai l'aspetto psicologico è conseguenziale. Non può essere la causa scatenante.